Pubblico attento ed emozionato a Trinitapoli per il racconto del maestro del cinema Pupi Avati, un uomo d'altri tempi colto ironico, enciclopedico, estrionico, con un'esperienza artistica e di vita nel mondo del cinema a lungo più di 50 anni. Un evento patrocinato dall'Assessorato alla Cultura del Comune di Trinitapoli, quello con Avati il primo appuntamento degli incontri d'autore a cura del Rush Eventi, diretto dall'autore e produttore Gerardo Russo, il regista con 40 film al suo attivo conosce bene la regione Puglia, avendola eletta a suo set privilegiato per alcune scene dei suoi film più riusciti. Il servizio è di Anna Maria Natalicchio. Maestro, lei ha raccontato il Novecento Italiano nei suoi film attraverso delle storie, diciamo, a volte anche minime. Quanto abbiamo bisogno ancora del cinema come medium per raccontare e soprattutto per sognare? Ma per raccontare, per testimoniare quello che uno sa della vita abbiamo bisogno non solo del cinema, ma di tutto. Ognuno di noi avrebbe il dovere di dire quello che ha fatto, quello che è, soprattutto i propri errori, riconoscere i propri errori. Questo è un paese in cui nessuno sbaglia, tu sbagli sempre quell'altro. E questo è un modo in cui non si cresce. Gli errori sono fondamentali nella vita per crescere. Se non cadi da cavallo e risali, tu a cavallo non ci andrai mai. Quindi io penso che il cinema che ho fatto io è un cinema minimale, come dice giustamente lei, che guarda a quello che io so della vita, dal punto di vista di un essere umano normalissimo come sono io, che ha guardato le cose della vita con gli occhi delle persone, genericamente di tutti gli altri. Lei ha girato qui in Puglia due dei suoi film più di successo, I Cavalieri che fecero l'impresa, il film epico, e La seconda notte di nozze. Cos'ha di particolare questa regione? E se ha intenzione di girare ovviamente un altro film, magari proprio qui a Trinitapoli? Ma io in realtà devo riconoscere che Trinitapoli non la conoscevo, non sapevo neppure che esistesse e fino ad oggi pomeriggio ho faticato a dire Trinitapoli, perché non mi veniva mai in mente questo nome così singolare. Poi ho capito, mi hanno detto i Templari, la storia della Trinità, Santissima Trinità, e adesso non me la dimenticherò mai più. L'accoglienza che si ha in Puglia è un'accoglienza importante, un'accoglienza di persone intelligenti che hanno saputo e scoperto come fare, come accadde nel primo dopoguerra negli anni 50 in Emilia, in Romagna, costiera romagnola, che aveva quel boom straordinario. Adesso questa testimonianza l'avete ereditato voi qua. Ecco, ci sono altre regioni d'Italia, come la Calabria, la Lucania, altrettanto belle, dove invece l'accoglienza non esiste, non sanno neppure porsi il problema. E questo è un peccato, perché ci sono delle potenzialità, secondo me anche là, straordinarie. Ma qui veramente, io la chiamo California d'Italia, la Puglia.